Non lo so, secondo me lui si sente male perché si sente male abbastanza. Secondo me, però io amo Mirko. A Mirko qual'è? Il fidanzato di perla, quello che fa un sacco tenerezza. Daniele qual'è invece? Colonscoloso. Ah, tipo simile a... Venticchio. Poi invece c'è uno scemo, quello che ha i capelli lunghi, che non sa manco per... Ah Federico, quanto l'odio! Non sa manco lui perché sta con la ragazza. E poi invece, vabbè, ma quello che è stato tradito per due anni e sta ancora con quella tipa... A parte che secondo me, lui quando ha detto io l'ho scoperto, gliel'ho detto un anno e mezzo, secondo me in quell'anno e mezzo non è andato con altri pure... Mirko è quello apatico, tipo, che gli dice che... Eh, quello apatico. Ma dopo quanto... Perché ormai è abituata che lei lo sminuisce, quindi alla fine gli viene automatico pure sminuire. Però no, secondo me no, vedi. Vabbè, non sappiamo di male. Eh, esatto, esatto. Cioè, da una parte sì, eh Valentina, da una parte sì, però dall'altra parte, secondo me, tu se sei forte di tuo, se sai che vale e tutto quanto... Non è che tu sai che quello puoi avere, lei non lo vuole, bene, ciao. Però secondo me lui si sminuisce un po' da solo. Magari, ripeto, lei potrebbe tipo dirlo in modi diversi, però secondo me lui proprio... E poi... A me piace un botto perché mi ci rivedo un sacco il Lorenzo, io quello il milanese, no? Ah, ok. A me piace un sacco per Francesca. Io quella mi ci rivedo un botto, Francesca è il cuore mio. Eppure... Ah, vabbè, ma perché... Come si chiama quella... Io non lo guardo dentro Scenariand ma mi guardo gli spezzoni... Ah... Ah, quella che ha 19 anni che sembra una 25 anni. Sì, ma il fidanzato è un po' merda. 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 No, mi chiamo Nicolad. Ciao Nicolad. Quella non ha presamente 19 anni. Sì. Ma guardate che lì... Le truccano. Allora, io ho apprendi un amico di miei papri. Sì, però con la faccia, ho una faccia di 9 anni. Ma ti credo cosa... Ma voi a 12 anni siamo passati con 17 anni. A parte ti aspetta ma quelli... No, non è possibile che a 19 anni perché hanno detto che stanno insieme da 7 anni. A 12 anni che siamo passati insieme con voi. Sì, sì. Ma è possibile. Sia così bello... però non capisco perché non ridi un poco che sei stupenda? non mi dire così Roma, sempre Forza Roma grazie Pietro che mi hai iniziato a seguire grazie Valentina ma dimmi pure a mettere like a TikTok ti dico proprio TikTok se mi ti dico sai che sei sponsorina no dai io però non faccio no no Morgan io dovrei pure andare io mi identifico in una borsa dell'Erospin che ne pensi? contro Gabi non mi va a scrivere l'età è una borsa dell'Erospin scusa ma un po' in ritardo grazie ma a proposito ma dimmi tutto questo che dobbiamo fare? cos'è quella cosa che mi hai detto che dobbiamo compilare? no ci sono dei contratti da imparare la memoria ma invece sul gruppo sta bene e come te lo spiego non Foggia Foggia you speak English? no yes yes no e sul gruppo vedo che tipo ci sta gente ma se troppo tipo una città anche lasciate condividi casa a me vai ciao come amore questo qua è il fratellino di una mia amica che ha tipo aspetta che non mi blocca la live andrea amore mio come stai? you're friends I like you mi piace thank you lindos ma chi è questa? ma magari ma a me tu dai di colimpino sinceramente ma magari ma che ma non gli cioè almeno che molesti no ragazzi ma perché ci segnalate le live a casa per favore cioè ciao Loris perché la gente Paolo Dario 20 ciao Loris very small hands non so che vuol dire ma chi so questi inglesi amore non lo so mani piccole non li conosco ma non so come chi parla amore Andrea non li conosco non so chi sono in solito mi chiamo Emma ciao Emma vabbè comunque stiamo dicendo l'inglese ho visto che sul gruppo se vai a vedere la chat è scritto in QQ non sta a compilare tipo qualcosa ma avevo capito ma nessuno sa chi sono gli altri in effetti no sì ma lui è il fratellino di una mia amica lo conosco ciao dalla Toscana Prato ciao 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 mi salutate con un tilimono ma guarda no no ah comunque ci assomiglio a casa dei no no cioè almeno per me no dai dico l'impio ma magari oh ma hai detto ho detto mi dai dico l'impio sì ma non in questo momento vabbè che io ti do di Valeria vedo un attimo di Maglioni allora adesso vi faccio vedere una cosa vai mettila al perché per la mia amica lo scendi da me no no ma ci ho azzeccato ma chi su Instagram o su? no si zitta aspettate qui eh allora ditemi però dovete vedere con i capelli più chiari più chiari fatti vedere fatti vedere bene la faccia ma no no sei uguale te lo giuro no non è vero l'ha struccata perché tu mo sei struccata quindi l'ha struccata aspettate qui che sei uguale grazie grazie madonna Alessia mi ha messo uguale ti prego pare che lei è bella no dai guarda se mi è bloccata non ti sento niente allora ora non fate caso a come l'ho bloccata per favore ma no per favore te lo sei sognato ma dai oddio Alessia ma cosa che stai dicendo oddio mettiti con questa faccia vai no vabbè vi prego fate serie 119 persone qui si no dico fai finta che lei è bionda metti i capelli suoi a lei la faccia oh dai no te lo sei sognato sei tu sei tu Alessia sei tu ma magari sei tu per te o per lei no lei ma non è vero lo sappiamo che cazini avete dai che colore c'è cazini ti va a fidanzare con me lei lei si io bianchi io neri si infatti si somigliava pure lei a qualcosa cosa ho detto ma non valeria vedo la somiglianza c'è no dai non fasi falsi si guarda calcolate lei è truccata lei è struccata quindi è lei non sono d'accordo è lei io sono d'accordissimo perché lei tu sei fidanzata io no lei manco sono 06 ti puoi mettere con lui abbiamo detto no più piccolino siamo maggiorenni e anche lì